L'Avezzano chiude il mini torneo di eccellenza rifilando un netto 4-2 al Capistrello nel derby tutto marzicano dell'ultima giornata. La cronaca si apre al sesto con la traversa centrata da Castro al tredicesimo. I bianco-verdi la sbloccano ripartenza in campo aperto, diagonale chirurgico di Spinola per l'1-0. L'Avezzano ha una doppia chance con Blanco al diciannovesimo e al ventunesimo prima dell'occasione di Spinola alla mezz'ora che trova la respinta della difesa del Capistrello, tre giri di lancetta ed è ancora Blanco protagonista ma il suo colpo di testa trova soltanto l'esterno della rete. Quando meno te lo aspetti arriva il pari di Granata, De Meis pennella per la testa di Cirelli che fa 1-1. Il pari trova la reazione dell'Avezzano con il Giovane Selle che prima si scontra con l'uscita di Fanti e poi con la traversa sul corner seguente. Al quarantesimo break di Daniele Di Girolamo che trova pronto Michael Di Girolamo sui titoli di coda della prima frazione. Blanco controlla e fulmina Fanti per il 2-1. Nella ripresa si abbassano i ritmi e le squadre si allungano. Il tris bianco-verde arriva alla mezz'ora con l'inzuccata di Blanco che beffa il non entrato loto. Tre minuti e Ica sigla il poker raccogliendo una respinta corta di loto su punizione di Spinola. Al quarantaquattresimo il tapino di Cirelli sull'assist di Di Girolamo. Cala il sipario sulla stagione. Avezzano chiude al terzo posto alle spalle di Chieti e l'Aquila Capistrello che resta penultimo davanti a Lanciano. Presidente dicevamo forse c'è un po' di rimpianto vedendo anche queste ultime uscite della squadra. Una squadra che nel finale di campionato ha trovato un po' le sue geometrie, un po' la propria condizione. C'è un po' di rimpianto o c'è invece la speranza per il prossimo campionato? Ci sono tutti e due gli elementi purtroppo. Il rammarico per la partenza che conoscete e invece la concreta costruzione del futuro. E quindi questo è il nono risultato utile consecutivo che tradotto significa cinque vittorie e tre pareggi. Effettivamente senza gli errori iniziali avremmo lottato per vincere il campionato. Mi dispiace, l'abbiamo dimostrato in tutto il girone di ritorno che siamo una squadra costruita per fare bene e probabilmente per vincere. E' chiaro che l'eccellenza va stretta alla città ma va stretta soprattutto al sottoscritto come patron. E quindi la squadra che vedrete anche nella passata stagione non sarà rivoluzionata ma sarà una squadra costruita puntellando a dovere con gli uomini giusti per vestire questa maglia, per vestire il bianco e verde. Una squadra che lotterà solo ed esclusivamente per vincere il campionato. Questo mini torneo era talmente corto, la nostra squadra è talmente nuova che alle prime difficoltà, diciamo all'inizio che abbiamo avuto qualche difficoltà, non abbiamo avuto poi il modo di poter riprendere perché di fatto poi quei punti persi all'inizio sono rimasti questi. Per cui dobbiamo farsi insieme al Presidente di costruire una squadra che alla città porti lustro perché secondo me Avezzano merita altri parcoscenici. D'altronde se non c'è questa ambizione, questa possibilità non credo che ad Avezzano puoi fare la squadretta. Quindi speriamo bene, dai, vediamo quello che possiamo fare.